Molto, molto vicino il colpo di mercato per la formazione Umbra, per il prossimo campionato di Superlega Maschile, ma anche per la Champions League. Appunto Colaci, che era fra i papabili, insieme a Rossini e a Bari, sembra il prossimo colpo di Perugia per coprire la casella di Libero. E chiaramente serve anche uno sforzo, perché Colaci è ancora sotto contratto per un anno con Trento, ma sembrerebbe averla spuntata, proprio la formazione del patron Sirci, che quindi andrebbe a coprire con un altro big per il ruolo, un altro big della categoria per il ruolo, l'ultimo tassello Libero, formando proprio un sestetto che può puntare veramente in alto. E se qualche giorno fa sembrava potesse partire il capitano Simone Butti, centrale, vista anche l'arrivo di Podraskanin insieme a Birarelli a formare la batteria di centrali, in questo momento invece sembra che Butti possa anche rimanere per formare appunto un trio di altissimo livello, considerato che la Sir giocherà su più fronti, compresa appunto la Champions League.